Conferenza di fine anno di Scania e giro di boa per Enrico Ricce che fa il terzo anno alla guida di questo straordinario brand. Un anno importantissimo di grande successo per Scania e allora vogliamo chiedere ad Enrico Ricce quali sono i tre punti fondamentali con i quali hanno raggiunto questo successo. Grazie Luca per questa opportunità qua a Milano raccontando un po' com'è andato l'anno di Scania in Italia nel 2023. Io se devo scegliere tre punti di forza di questo anno che finisce dirò prima il record di consegna dei veicoli. Abbiamo battuto il record che aveva più di 20 anni con le consegne dei camion e anche abbiamo il record di consegna di autobus. Quindi un bel numero di Scania che si mettono sulle strade in questo 2023. Non è veicolo ma i motori anche abbiamo un anno di record. Quindi è una crescita importante sostenuta dei volumi. Prima. Secondo, la riconoscenza dei nostri clienti per il nostro contratto di servizio. In questo anno del 2023 il 75% dei veicoli Scania consegnati in Italia, i clienti hanno scelto di avere un contratto di servizio con noi. Questo ci dà tre quarti della consegna di volume. Puoi dire che è un prodotto fidato, un prodotto apprezzato e un prodotto competitivo per costo. Il terzo punto di forza vorrei fare, comitare, il bel sviluppo dell'Escania Finance. Dello sviluppo che abbiamo con il leasing, una penetrazione di oltre il 50% in Italia e anche della crescita incredibile dell'assicurazione. Questo scherziamo internamente, è stato l'anno dell'assicurazione ma sì, abbiamo cresciuto tanto nell'assicurazione di quei clienti che non fanno il leasing ma conoscendo il prodotto assicurativo Scania e i suoi vantaggi hanno scelto prenderlo. Questi sono i tre punti di forza. E allora da questa location iconica per Milano, Terrazza Martini, penso che tu possa voler fare un augurio di buon Natale, buone feste e di buon 2024 ai tuoi clienti. Giusto, ai miei clienti ma anche a tutti i settori di trasporto da parte di Tal Scania, di qua con i domi indietro, vi auguro un eccellente 2024 con tanto lavoro, con tante salute e tanti buoni momenti. Grazie.